Imparare la lingua italiana è come imparare a guidare la bicicletta o la moto o qualsiasi sport, come per esempio i pattini. Solamente possiamo imparare praticando, solamente possiamo imparare a parlare parlando. Quindi ricordiamoci che oggi il tuo proposito di imparare la lingua italiana passa obbligatoriamente per la necessità e la disciplina divertente di parlare. Devi assolutamente, ed è nel tuo interesse, ripetere a voce alta le frasi che ti insegno. Ripeti, ripeti, ripeti le frasi con i verbi, le frasi con le parole, le frasi con i dialoghi tematici del videocorso gratuito di italiano. Però l'importante è che tu ripeta con me a voce alta perché così impari e senti la soddisfazione di poterti esprimere. Questo è molto importante.